Anche il cioccolato ha finalmente uno strumento ad hoc per essere proposto in modo da esaltarne le virtù. Il merito è dell'Università dei Sapori di Perugia che nell'ambito di Euro Chocolate 2012 ha presentato la cioccolatiera, una soluzione per gli appassionati e i professionisti della ristorazione che possono così proporre il cioccolato in abbinamento con aromi, frutta fresca o candita, meringhe e biscotti. L'Università dei Sapori per la prima volta si vuole misurare non solo nel contenuto, quindi cibo, ma anche nei contenitori, quindi sta cercando di ideare, pensare, strutturare una linea professional appunto per i professionisti della ristorazione. In questo caso l'idea è quello appunto di creare una cioccolatiera, un prodotto che viene utilizzato sia dall'amatore voluto ma anche dal professionista, come soluzione appunto che insieme può centrale l'esigenza appunto di fare un buon dessert o della frutta. La cioccolatiera, progetto interamente made in Umbria, nasce dalla sinergia dei maestri cioccolatieri del centro di formazione con il designer Francesco Paretti e con BlueSide, azienda perugina leader nella lavorazione del vetro borosilicato, materiale con il quale lo strumento è realizzato. L'idea nasce principalmente dall'idea di poter far collaborare il designer con chi effettivamente poi conosce le tecniche e le tecnologie dell'uso di un prodotto. Abbiamo unito la capacità, la competenza di lavorazione del vetro in borosilicato destinato originariamente al mondo scientifico, decontestualizzato invece con vero piacere al mondo del design e anche della degustazione di prodotti di eccellenza, quale il cioccolato. La cioccolatiera, che verrà messa in commercio entronatale con abbinato un ricettario a firma Università dei Sapori, è proposta sia in versione collettiva per 4-6 persone con una serie di contenitori coordinati che individuale. Questo prodotto può essere utilizzato per ristoratori, pasticceri o anche casalinghe che possono variare la loro produzione, soprattutto per le scene, per proporre ai propri ospiti qualcosa di diverso. La semplicità di scioglimento del cioccolato e la lunga durata del cioccolato liquido permette poi una combinazione fra biscotti, torte o quant'altro, dove il cioccolato si la fa da padrone e si sposa tranquillamente.